Vanno gli auguri di buon lavoro sia alla Presidente e alla Vicepresidente e a tutte le componenti. Dovrà lavorare molto per iniziare dal fatto che è necessario attivare e attuare da subito lo Statuto di Regione Lombardia che contiene un principio importante, il principio della democrazia paritaria, che è qualcosa di più delle quote e della mera rappresentanza. È un principio che richiede di sottolineare il fatto che non esiste una vera democrazia senza un'equa rappresentanza di genere, cioè senza una piena rappresentanza sia degli uomini che delle donne. Un principio statutario che deve essere applicato sia a livello nazionale sia in Regione Lombardia. Il Consiglio delle Pari Opportunità ha molti compiti, tra cui quello di valutare, monitorare e sensibilizzare sia il Consiglio regionale sia la Giunta ad attivare tutte quelle politiche che garantiscano le pari opportunità.